Mister, è una domanda difficile, domenica c'è il Milan, che partita si aspetta a Sala di Filippo? È una partita molto complicata, sappiamo che il Milan è una grande squadra e sta vivendo un periodo molto buono e cercheremo di fare il possibile per metterla in difficoltà. Dobbiamo riscattarci da una prova in colore fatta sabato con l'Atalanta e mi aspetto una gara cattiva dal punto di vista agonistico da parte delle mie ragazze. Ecco, un Milan che era passato solo per un azzaro di misura all'andata qua a Verona quando l'Ellas ha dato prova di una grande prestazione, ci sarà un po' più di attenzione in più forse della rossonera? Ma sì, era stata una bella partita da entrambe le parti, sicuramente il Milan aveva creato molto di più però noi siamo riuscite a tenere duro fino alla fine, poi sotto un acquazzone ci poteva stare anche un nostro gol però insomma in fin dei conti la vittoria fu meritata. Questa sarà sicuramente un'altra partita su un campo molto difficile dove poche squadre sono riuscite a fare punti quindi vedremo che cosa ci riserverà la partita di domenica. Ecco, servirà tornare a una prestazione di grande attenzione dal punto di vista tattico sia difensivo che offensivo, un po' come era successo a Roma magari? Esattamente, dovremmo ripetere proprio quella prestazione lì corte e compatte da tutti i punti di vista per poi cercare di ripartire in contropiede. Ora vedremo, no, abbiamo qualche ragazza che non è al meglio, causa influenze, causa qualche infortunio quindi vedremo di recuperare tutti al 100%. Uscendo anche dagli schemi della partita, chiudiamo, pensando alla ragazza più giovane che era in campo all'andata contro il Milan, Camilla Forcena e la classe 2001. Proprio nel 2001 una 19enne Sara Di Filippo faceva il suo esordio con la nazionale maggiore quando in panchina per l'Italia c'era Carolina Morace. Cosa è cambiato in tutti questi anni e che emozione le suscita una riflessione così? Sono passati tanti anni e questo è un dato di fatto. Quella che ricordo ancora fu un'emozione grandissima perché indossare la maglia della nazionale per la prima volta fu un'emozione indimenticabile. Sono passati tanti anni da quella calciatrice che ero allora, ho imparato molto in entrambi i ruoli sia da calciatrice che da allenatrice e spero di continuare ancora ad imparare molto perché c'è ancora tanto da fare. Ecco, si parlava anche un po' di allieva contro il maestro all'andata, però Carolina Morace è un po' maestra di tutte quante. Sì, diciamo che è molto difficile se non impossibile cercare di battere un mostro sacro come Carolina Morace. Cercheremo di fare il meglio, il massimo, cercheremo di spronare tutte le ragazze fino al limite e vedremo che cosa succederà.